controllo però tutto sono fatto molto bene ho preso del fio di puttana parecchie volte fio di puttana fio di puttana fio di puttana ma la cosa non è andata giu tanto Poi c'è Giorgio, Montoro, Vicenza, Pugilenti, ha infilato questa roba Grande spettacolo, grande show, bellissima partita Il torneo di calcio 5, più vincente della provincia di Mantua, sta per tornare Noi siamo pronti! E voi? Grazie a tutti!